Rhyno Zampo ha creato un'azienda di nome Ex-Sample che è un appigliamento proprio specifico per gli altri e quella è la tua un'azienda di i tatticali per sport e i tatticali un po' di tattata la telewalker del tattico di Gareggia da dieci anni ha avvenuto mai un codio in due baraglietti ma quest'anno è in gran forma e ha vinto la Coppa del Mundo federale, attenzione, aiaiai, 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 adesso è dato un impatto bruttissimo, mani sulla faccia per l'equicione statunitensi, ha perso sicuramente i sensi dell'Europa, adesso vedremo cosa succederà in pista. Un impatto vuole, impressionante, non si muove Tyler, sicuramente ha battuto la testa, ha perso i sensi, speriamo che non ci sia nulla di più grave naturalmente, un po' terribile per gli statunitensi, per cui stavamo dicendo che quest'anno era arrivato il suo momento, avendo vinto la classifica di Coppa del Mundo generale, dopo una carriera nella quale in tante competizioni non era riuscito mai a centrare un po' di, e stanno dicendo che le competizioni fossero messe molto bene, si erano in fatto questi, molto bene, perché vinto la Coppa del Mundo, purtroppo un bruttissimo volo, abbiamo visto come gli effetti di a sitting qui debbano davvero fare miracoli, per stare bene, sono proprio buono sci per combattere queste coppe che sono veramente difficili da gestire, tanto più per gli atleti che si riusciano, hanno questo ammortizzatore che naturalmente preserva e consente loro di avere un minimo di stabilità, però su certe coppe poi si vola davvero. Nel caso di saperne di più, vediamo la linea nuovamente al pietro.